I componenti del club del Rotary sono normalmente professionisti di qualsiasi, non solo libera professione, ma professionisti che poi operano nella pubblica amministrazione, nelle aziende private, eccetera, ed imprenditori. E tra le finalità del club c'è quello di dare maggior senso, maggiore responsabilità ai propri soci in funzione della loro attività. Quindi non si poteva manere indifferenti di fronte al problema della corruzione e della nuova legge, che poi è tanto nuova, non è perché già è stata manata la prima legge nel 2012. Ecco, tra l'altro ci saranno anche dei relatori assolutamente autorevoli, leggiamo Fausto Cardella, il procuratore generale. Sì, praticamente Fausto Cardella, che è il procuratore generale della Repubblica presso la procura di Perugia, la procura della corte d'appello, diciamo, la corte d'appello di Perugia. Poi c'è il professor Bartolini, che è ordinario di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza e assessore regionale. E poi c'è il dottor Principato, che è un magistrato della Corte dei Conti, sostituto procuratore della Corte dei Conti. Quindi perché anche questa materia va fondata sotto tre profili, cioè dal punto di vista giuridico, profilo amministrativo, profilo penale e profilo giuscontabile, cioè quello del risarcimento del danno provocato all'erario per l'attività illecita. Tra l'altro ci piace anche sottolineare una cosa importante, è anche un convegno utile per diversi ordini professionali come crediti. Sì, sì, questa è una cosa importante. Praticamente abbiamo avuto l'adesione, quindi l'accreditamento da parte dell'Ordine degli Avvocati, dell'Ordine dei Commercialisti e per i ricontabili, dell'Ordine degli Architetti e del Collegio dei Geometri. Grazie. Grazie.